Ciao ragazzi io sono Algisius e benvenuti in una nuova domenica con Algisius Allora un po' repetitivo si lo so però non ci possiamo fare niente Allora ragazzi questo è diciamo il mio ultimo video prima di ricominciare la scuola Esatto Io comincio la scuola domani e che bel problema Inizio con la quinta per l'esattezza quindi quest'anno ho la maturità Sì mi tocca un anno prima che la maturità venga modificata e che gli venga tolta la cosiddetta terza prova Cioè quindi quel mega quizone praticamente Non sto a spiegarvi ci arriverete e la cosa più noiosa che si possa fare è parlare in un vlog della terza prova Cioè vi prego no non fatelo farlo Allora settimana decisamente molto divertente spero che sia stato lo stesso per voi Perché scommetto che anche voi a giorni ricomincerete la scuola Ma io sono davanti al mio computer perché stavo facendo passare le notizie di Aston E ho visto una cosa molto brutta Cioè fanno delle Dei Cambiamenti al meta Alle carte Invece la cosa che mi sta particolarmente antipatica che non viene scritta qua ma ho letto Su altre fonti È che hanno intenzione di rimuovere probabilmente di far entrare nel wall of fame Il blocco di ghiaccio del mago E davvero non ci sto a questa cosa Cioè blocco di ghiaccio la carta che vi fa rimanere a uno di vita Cioè vi protegge da un attacco potenzialmente fatale Nel turno dell'avversario Metterla nel wall of fame Dopo che Già tra parentesi L'anno scorso ci è stata rimossa lancia di ghiaccio Veramente è una cosa Impensabile secondo me Cioè andiamo completamente a distruggere la classe del mago Che si fonda sui blocchi di ghiaccio praticamente Il mago non ha altro modo di difendersi Se non i blocchi di ghiaccio O mi metti una magia di cura A questo punto è il mago O se mi toglie i blocchi di ghiaccio Ho bisogno di qualcos'altro Però anche in sala tutto da vedere Ragazzi ho circa mezz'oretta Io prima di andare Con i miei amici Perché oggi pomeriggio Fino alla sera sarò via Ve lo ripeto È il mio ultimo giorno di libertà Assoluta Da domani inizierò con La scuola purtroppo Purtroppo sì Purtroppo no Dopo va bene Dopo se vi state chiedendo Cosa avrò intenzione di fare dopo E questa è una bella domanda Sicuramente l'università Perché per chi non lo sa Io faccio Per chi non lo sapesse Io faccio Il liceo scienza applicata Quindi faccio il liceo scientifico Però senza il latino Ci sono più materie scientifiche E quindi dopo Andrò all'università Che università Questa è una bella domanda Penso informatica Non ingegneria informatica Ma semplicemente informatica Anche qua non voglio dilungarmi Però parlare troppo di me Innanzitutto saluto dagli necomotti Che è Qui iscritto da Non si sa quanto tempo C'è veramente Tantissimo Tantissimo tempo E anche Alessandro Corsi Che Cioè Mi seguono da non si sa One Da eternità E io non li saluto Mai Mi sento una persona orribile Ci parliamo tantissimo nei commenti Però Almeno salutarvi Per quel Tanto che mi date Veramente Grazie ragazzi Grazie veramente Non sto piacendo Mi stavo grattando Non mi preoccupate Sono sentimentale Ma non fino a quel punto Cos'altro volevo dire Ah si Il pokemon Insurgence Ne avevo parlato Nel video di showdown Di ieri E ho intenzione probabilmente Di portarlo a live Perché a live E Daniele come ho detto No porta una serie Vera e propria Allora Volevo portarlo a live Perché fare le live Mi risulta molto più semplice Nel senso che Quando io voglia Mi metto lì E decido E decido Faccio una live E faccio una live Invece per un video Devo stare lì Mettermi a registrare Poi rimontare il tutto Andare a cercare I momenti belli E cose di questo tipo Se invece io faccio tutto in live Poi il video lo esporto su youtube Ovviamente non in forma completa O magari potrei anche Esportarlo in forma completa Però Mi risulta molto più facile In caso poi Riscaricarmelo Editarmelo come voglio io Fare i tagli che voglio io E poi ricaricarlo su youtube In forma ridotta E Tra parentesi Primis fra tutti Le live su twitch Io posso Lasciare lì dove sono Quindi Nel caso Vi perdiate una live Potete sempre Riguardarvela Tutte le live che faccio Sono su twitch Per un determinato periodo di tempo A meno che io Non le metta tra gli highlights Di twitch In quel caso È un'altra questione Hanno tempo illimitato Però Non vorrei mettere Ogni live di twitch In tempo illimitato Vorrei per l'appunto Fare live di twitch Rimarrà lì Il tempo che rimarrà Mi sembra di Una decina di giorni Una o due settimane Mi pare a ricordare Dopodiché Vi ricaricherò Un highlights Della live Su youtube E questo sarebbe In teoria il piano Altre Perché proprio Pokémon insurgence Per il semplice fatto Che Posso farci Una live vlog sopra Probabilmente È a full screen Quindi posso usare Il mio software Che uso per Airstone Ed è molto più facile E Ultima cosa È un gioco nuovo Non è il solito Pokémon Diamante Perla Platino Bianco Nero È una cosa nuova Una storia nuova Che Guarderemo Ma A grandi linee Quello che ci interesserà A noi Sarà L'analisi Quella propria E quindi È una buona idea Secondo me Per divertirci Continueranno anche Live su Airstone Continueranno i video Su Airstone Voglio portarli avanti Mi sembra che Il format di Airstone Vi sia piaciuto Magari Mi prodigherò Un po' di più A fare video su Airstone E sui mazzi nuovi Su un'età nuova Per l'appunto In questo breve vlog Ho parlato un attimo Del bilanciamento di Airstone Ma Non voglio stressare troppo Chi vuole sentire parlare me Per una volta E quindi Ci ho dedicato poco tempo Però magari In futuro Potremmo anche fare Un video di questo tipo Ringrazio tantissimo L'Ionestile L'ho già fatto nello scorso video Ma ci stiamo veramente Impegnando In una collaborazione Duratura Io E anche Rola Rosso E questo tipo Insieme a loro Per fare dei video Di fuori dalla N Oppure Video anche Su 20 30 cose Quelle che fanno loro Le top cose Che non sapevate Oppure che Non avreste mai pensato di Oppure Top 10 in generale Top 20 Non lo so Adesso vedremo un po' Cosa fare Grazie veramente tanto ragazzi Che state guardando il video Mi avevano proposto Di portare video Anche sul mio canale E questa cosa La vedremo Perché il mio intento Non è quello di farmi pubblicità E di fare pubblicità A loro Infatti lo sto facendo adesso Quindi se non siete ancora passati Per i canali di Lestile Fate un giro Però il mio intento Non è fare pubblicità A me Nel senso Io voglio dare una mano a loro E lo faccio Nella più Calma Nel senso Non ci guadagno niente Ripeto Loro Anche loro hanno deciso Di attivare la partner Io invece L'attiverò verso fine settembre E quindi voglio dare una mano a loro Nel frattempo Perché loro Ne hanno dato anche una mano a me Quindi vorrei Ripeto Non deve essere un favore per un favore Deve essere un Ragazzi Vi va di bene Sì No Nella massima frequenza Ragazzi Domenico con il Gisus Termina qua Spero che Passiate gli ultimi giorni A divertirvi Perché Fatelo Godetevi Però Anche preoccupatevi Della scuola Sì Non voglio farvi la predica Che caso sto dicendo Preoccupatevi Della scuola Ragazzi Noi ci vediamo in un prossimo video Probabilmente durante la settimana Magari anche una live Inter settimanale Oppure anche Salta e domenica Ecco Sceglieremo un giorno Per l'appunto Per il live Che sarà comodo anche a voi Quindi ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video Come al solito Lasciate un commento Se il video è piaciuto Mettete un bia Se il video mi è piaciuto Mettete un mi piace Iscrivetevi E noi ci vediamo In un prossimo video Quindi Bella ragazzi Ciao Nala